mi chiamo cristiano giardini e sono un musicista siciliano la mia idea di gese ha preso forma in questa terra di sicilia la mia sicilia una terra di forti contrasti e di intense emozioni una terra che ha dato i natali ad illustri poeti scrittori musicisti il contatto e lo scambio con i musicisti siciliani ha fatto nascere in me l'idea di questo nuovo progetto espresso roma catania è un progetto che prende forma circa dieci anni fa dalla collaborazione con uno dei più intensi ed espressivi pianisti italiani andrea beneventano alla batteria ho voluto ruggiero rotolo semplicemente perché ruggiero non è solo un batterista ma un musicista tutto tondo al contrabbasso ho chiamato carmelo venuto avevo proprio bisogno della sua visione della musica per me era indispensabile insieme noi quattro abbiamo suonato molto in questi anni espresso roma catania affonda le radici nel jazz tradizionale per poi esplodere in una forma moderna assolutamente individualistica una musica del sud insomma riesco a comprendere le forti emozioni che questa terra mi trasmette solo attraverso il mio strumento è la mia musica è il contatto con gli altri la mia musica è il contatto con gli altri la mia musica è il contatto con gli altri la mia musica è il contatto con gli altri la mia musica è il contatto con gli altri